Lo avevano fatto per primi i ristoratori, appendendo alle vetrine dei locali le bollette aumentate, a dismisura. Poi i sindaci e molte altre categorie sociali, ora lo fanno anche i parroci usando la vetrina dei social. Il caro Energia rischia di mettere in ginocchio le parrocchie italiane che in quanto ad offerte da parte dei fedeli viaggiano sempre sul filo di lana. Ed è nella giornata di sensibilizzazione per le offerte, deducibili per sostenere i sacerdoti, che arriva un appello dal cardinale presidente della CEI, Matteo Zuppi. La chiesa è casa tua ed è bello aver voglia di farla funzionare, sostenendo i sacerdoti. È bello che anche tu abbia voglia di dare una mano, non c'è pantalone che paga. Come si dice a Roma, il pantalone ce l'abbiamo noi a volte anche, con qualche toppa. Intanto la conferenza episcopale italiana si prepara alla riunione del Consiglio Permanente a Matera a partire da domani, martedì 20 settembre. Il problema del caro Energia non è al momento tra i punti in agenda, ma potrebbe esserci comunque un primo confronto sul da farsi. Perché ora la situazione per molte parrocchie è ancora gestibile, ma quando bisognerà accendere i riscaldamenti delle grandi chiese e delle tante aule di catechismo, potrebbero arrivare problemi finanziari ben più pesanti di quelli già vissuti nei mesi più duri del Covid, quando con il lockdown erano state pressoché azzerate offerte raccolte di beneficenza. Al momento tutti cercano di scongiurare il taglio delle celebrazioni per risparmiare luce e riscaldamento, c'è però chi lancia un SOS sul web pubblicando già le bollette. Un duro atto destinato ad essere replicato da tutti i parroci italiani. Apri pista il parroco di San Vincenzo Ferrera da Tessa Chieti. Per luglio-agosto la bolletta è di 1.043 euro e purtroppo questo è solo l'inizio, commenta donna Andrea Rosati. A San Veromili Soristano verrà spento il campanile di Santa Sofia, mentre a Claude Pordenone un parroco richiama la comunità a dare una mano, citando l'articolo 315 del Codice Civile, Diritti e Doveri del figlio. A Roma il vicariato sta aiutando le parrocchie a sostituire le vecchie caldaie, mentre a Palmi, Reggio Calabria, sono stati da poco inaugurati nuovi uffici diocesani dotati di pannelli solari, fonti della diocesi di Roma, spiegano, anche se sono stati istituiti dei tavoli per dialogare con i gestori. Ma si è solo ai primi passi. Saremo attenti, dicono, forse riscalderemo i locali per periodi più contenuti, ma non prevediamo nessuna limitazione delle celebrazioni. Così Monsignor Giancarlo Perego, vescovo di Ferrara Comacchio, nei giorni scorsi contestato per l'accorpamento di alcune parrocchie, in diocesi ci sono 170 parrocchie, di cui 90 sotto i 1000 abitanti, spesso il problema è anche pagare la bolletta della luce. La condivisione aiuta, spiega, ovunque da nord a sud di questa Italia è una corsa contro il tempo, perché dall'autunno, ormai prossimo, la situazione potrebbe non essere più sostenibile. D'altro canto cresce la domanda di aiuto rivolta alle parrocchie e alle caritas, da parte delle famiglie più povere. Già da anni il pagamento delle bollette alle famiglie fragili è una delle voci, della carità, insieme alla distribuzione di alimentari o altri generi di prima necessità. Ma oggi è proprio tra le opere principali che verranno messe in campo, in vista della giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà il 13 novembre. Non andrà meglio purtroppo nella nostra splendida Sicilia, dove si contano oltre 1700 parrocchie ed oltre 3000 sacerdoti.